Molte persone credono che YouTube sia una sorta di rubinetto di visualizzazioni, iscritti, like e quant'altro, ma soprattutto di guadagni. Ma è davvero così? O per raggiungere i nostri obiettivi su questa piattaforma ci vuole dell'altro? Ciao a tutti da Marco e benvenuti in questa nuova puntata di Tube Facile Podcast, il primo podcast in Italia rivolto a privati, professionisti e aziende che vogliono imparare a muovere i primi passi su YouTube e a creare la propria presenza in modo efficace su questa piattaforma. Oggi voglio sfatare un mito che in verità è diventato ancora peggio, cioè una mentalità davvero tra tantissimi creators, ovvero che YouTube, qualunque sia il tipo di video che facciamo, debba in automatico, proprio come un rubinetto, riempirceli di views, like e quant'altro, iscritti, insomma, chi più ne ha più ne metta. Ma è davvero così o bisogna fare qualcosa in più? Beh, ovviamente la risposta è no. Non basta pubblicare un video per sperare che diventi virale o che i nostri numeri aumentino da un giorno all'altro. Bisogna svolgere determinate attività e a questo riguardo voglio portare alla vostra attenzione alcuni fattori da tenere in forte considerazione quando si portano video su YouTube. I primi due aspetti che vanno tenuti in considerazione se vogliamo avere successo su YouTube sono qualità e originalità. In altre parole, non basta postare video di gattini o balletti per avere successo e generare views e iscritti. Bisogna portare contenuti interessanti e che vadano incontro, come ho detto spesso, alle necessità degli utenti su YouTube. Un altro aspetto è quello di tenersi informati e aggiornati su quelle che sono le novità della piattaforma, gli aggiornamenti di nuove funzionalità, aggiornamenti dell'algoritmo, in modo da assicurarci di creare contenuti in linea appunto con questi aggiornamenti e che quindi non perdano visibilità perché magari applichiamo concetti e principi datati o troppo vecchi. Ovviamente per far questo ci basta seguire i canali ufficiali, il canale YouTube Creators Italia oppure esperti come me o altri che si mettono a disposizione per dare aggiornamenti, per tenervi aggiornati sulle novità di YouTube. Un altro aspetto è che dobbiamo essere noi i primi promotori dei nostri video. Infatti non basta pubblicare il video e sederci comodamente in attesa che arrivino le views. Dobbiamo svolgere delle azioni, tra cui ad esempio condividere i video sui nostri social, se abbiamo un profilo su Instagram, su Facebook o quant'altro, e utilizzare una tecnica di cui ho parlato già spesso che è l'asseo per i video su YouTube. Se non sapete che cos'è l'asseo per i video su YouTube vi invito a recuperare una vecchia live sul mio canale YouTube in cui spiego proprio passo passo come usarla per aumentare la visibilità dei nostri contenuti. Un altro aspetto è che per quanto io continui a pensare e per il momento non cambio idea che su YouTube c'è davvero spazio per tutti, è innegabile che per certi argomenti c'è più concorrenza che in altri e di conseguenza è necessario sapersi distinguere, portando cose originali e che ci rendono in qualche modo unici. Vi faccio giusto un esempio pratico. Immaginiamo che voi vogliate aprire un canale di cucina. Ovviamente su YouTube ce n'è tantissimi, quindi come possiamo distinguerci? Ad esempio potremmo specializzarci su un certo tipo di cucina, magari la cucina cinese o di un altro paese, dell'Italia, oppure fare un mix tra cucina e cultura, in cui magari non parliamo solo di piatti ma della loro storia, del luogo in cui sono nati questi piatti e quant'altro insomma. Un ultimo aspetto è che ci vuole pazienza e soprattutto costanza nella pubblicazione dei video. Quindi non possiamo pretendere che dopo solo 10, 20 o 30 video all'improvviso il nostro canale esploderà di iscritti. Ok, c'è qualche caso raro in cui in circa sei mesi hanno già raggiunto i 100.000 iscritti, ma sono casi veramente rari e molto spesso sono una bolla di sapone, cioè che magari poi non hanno gli stessi risultati nel lungo periodo. Infatti, in base alla mia esperienza e ai dati che ho avuto modo di raccogliere nel tempo, per un canale che in media pubblica un video a settimana ci vuole circa un annetto per raggiungere dei risultati interessanti. E per interessanti intendo ad esempio raggiungere i requisiti per la monetizzazione o creare una community fidelizzata che è pronta ad acquistare prodotti o servizi che venderemo se siamo un professionista o un'azienda. Quindi, in sostanza, cosa serve per crescere davvero su YouTube e trasformarlo, in un certo senso, nel nostro rubinetto personale di views, iscritti e quant'altro? Punto numero uno. Creare contenuti di qualità. Quindi non solo in termini di contenuto, di cosa diremo, dedicandoci il giusto tempo, ma anche in termini di video, audio, illuminazione, facendo quello che è possibile in base al nostro budget. Secondo punto, scegliere un tema specifico e se in questo argomento c'è della concorrenza facciamo tutto il possibile per creare qualcosa di unico e originale. E una cosa che non ho detto è che in verità noi tutti abbiamo una piccola arma segreta che ci aiuta in questo, che nessuno potrà mai copiare o rubarci, ovvero la nostra esperienza. Magari noi nel tempo siamo diventati bravi in qualche argomento. Parliamo prima, ad esempio, della cucina. Se siamo cuochi da vent'anni avremo molta più esperienza di tante altre persone, di tecniche e di modi di cucinare che sicuramente ci distingueranno dalla massa. Un terzo punto è essere noi i primi promotori dei nostri video, condividendole sui nostri social, usando la SEO per i video su YouTube. E un'altra tecnica di cui non vi ho parlato è creando collaborazioni con altri creators. E se su questo aspetto magari pensate di avere le giuste strategie per trovare collaboratori, vi invito a guardare la scorsa puntata del podcast in cui ho intervistato un creator che anche quando aveva pochi iscritti era riuscito a creare collaborazioni con creators molto più grandi di lui. E quindi rivedendola sicuramente troverete degli spunti utili. Quarto punto, fate tutto il possibile per essere regolari e costanti nella pubblicazione. Perché tra le tante cose questa è una di quelle che YouTube premia di più. E sicuramente, come ho già detto prima, ci vuole un po' di tempo prima di vedere risultati concreti e importanti. E infine, ultimo aspetto, l'ho proprio tenuto per la fine, interagite con il vostro pubblico. Perché arriverà un momento in cui ci saranno i primi commenti, le prime domande e quindi non aspettate di avere tanti commenti per interagire col pubblico. Fateli sentire importanti. E sicuramente per questo vi premieranno, continuando a guardare i vostri video, continuando anche a condividerli e a diventare, per così dire, i vostri ambassador che faranno conoscere il vostro canale ovunque nel web. Insomma, diciamocela tutta. Non esiste una formula magica che ci permette all'improvviso di crescere su YouTube. L'unico modo è avere un buon piano di lavoro, le giuste strategie e sicuramente piano piano nel tempo raggiungeremo i nostri obiettivi su questa piattaforma e sicuramente grandissimi risultati. Bene, qui termina questa puntata di Tube Facile Podcast. Fatemi sapere cosa ne pensate dell'argomento trattato oggi e, secondo voi, qual è l'aspetto più importante per far crescere un canale YouTube. E detto questo, ci vediamo alla prossima puntata. Ciao da Marco!